In diretta su Ceoradio mentre abbiamo con noi Andrea Federzoni degli All Men's Cellar Ciao Andrea, buon pomeriggio Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio Ciao Andrea, come stai? Ciao, tutto bene, grazie, ciao Allora, 21 giugno, Jam Session al Crystal in Piazza Liber Paradisius a Bologna Chiaramente tutti la conosciamo vicino a Via dei Carracci, vicino all'entrata nuova della stazione dei treni e praticamente sotto la sede del Comune di Bologna, la nuova sede del Comune di Bologna Allora, caro Andrea, quando nasce la band? Parlaci un pochino di te La band nasce qualche anno fa qui a Modena, non tanti anni fa, nel 2009 e diciamo che abbiamo avuto il tempo di produrre un EP e poi il nostro primo album che è uscito l'anno scorso abbiamo avuto una gestazione un po' lunga per questo però diciamo che le ottime recensioni che stanno uscendo ci stanno ripagando abbiamo trovato un buon contratto con una buona etichetta siamo abbastanza soddisfatti, diciamo e adesso siamo da poco rimasti in quattro membri perché il tastierista ha deciso di prendere un'altra strada quindi siamo in uno in meno ma diciamo che il nostro SAM non cambia in quanto quello che veniva fatto da le tastiere ovviamente adesso verrà fatto direttamente con le basi per il resto sì, abbiamo un'attività live locale diciamo per ora però insomma cerchiamo e speriamo e contiamo di allargarci quanto prima Qualcosa sul vostro genere? A chi vi ispirate? Diciamo che il nostro genere è melodica hard rock quindi potete pensare a band come possano essere un po' più di nicchia come magari Night Ranger, Aram's Carem oppure in un senso lato Death Leopard comunque quelle sonorità hard rock un pochino più melodiche, meno ruvide quindi non pensate a Guns N'Roses o band del genere pensate più magari a band sonorità un po' più americaneggianti anche a stile Journey o Toto o band di questo genere insomma diciamo che è difficile definire con precisione il nostro genere però melodica hard rock individua abbastanza precisamente Allora l'album si intitola The Majed Pearls il singolo che stiamo per ascoltare è Hyper Love a cantare sono gli Old Man's Cheddar grazie Andrea Federzioni e in bocca al lupo per il vostro James Session grazie, grazie a tutti, ciao ciao, alla prossima, ciao ciao